vai stiamo facendo il video a Rocco il nonno Franco e i due gemellini che escono dalla spiaggia con la macchina 4x4 che tra un poco affonderà guarda la sgommata di Rocco con i miei figli e amori miei dentro ora ce ne stiamo andando a casa ci andiamo a lavare perché dobbiamo andare a festeggiare San Rocco andiamo a mangiare la pizza da Sacca poi altri due giorni di vacanze e tutti al lavoro sta ritornando Rocco a fare lo spazio guarda il nonno come si diverte dentro quando Zerocco fa le strontate a fare lo spazio Ciao!